Intanto precisiamo quello che accadrà per il progetto PINQA, è vero che non sono soldi che ci sono subito nelle casse comunali, ma questa ristrutturazione di Tortaia si farà? Sì, il Comune ha già imputato la cifra di 6 milioni e 4, quindi per entrambi gli interventi Cadorna e Tortaia, il PINQA è uno strumento di rimborso, quindi nei prossimi 10 anni questo denaro verrà restituito al Comune, però i soldi sono già stati imputati correttamente in bilancio, quindi questi lavori si faranno, per noi questa è stata un'occasione unica, non avremmo mai potuto fare un intervento così oneroso e così importante con le nostre sole forze, quindi per noi questo è stato veramente un gran risultato. Invece per Pescaiola, la cui assegnazione è prevista fra qualche mese, ecco lì qual è il quadro? Sì, lì siamo riusciti a concludere, nonostante tutte le problematiche legate al Covid, siamo riusciti a concludere il cantiere, lì la situazione abitativa è mista, ci sono alloggi di proprietà, quelle che vengono definite vere e proprie case popolari e poi ci sono 11 alloggi che verranno sempre dati per gradatoria comunale a famiglie che noi definiamo in fascia grigia, quindi che non potrebbero afferire alle case popolari ma che potranno usufruire di alloggi straordinari a un canone calmierato regolato appunto dal Comune di Arezzo. La gradatoria è stata prorogata, c'è tempo fino a metà settembre e noi speriamo di riuscire a riempirli tutti anche perché oggettivamente sono di una qualità costruttiva unica in Arezzo e anche in provincia e sono sicuramente a un prezzo totalmente fuori mercato, quindi molto molto vantaggiosi. Quando sarà l'assegnazione diciamo ufficiale? Appena verrà conclusa la gradatoria, quindi diciamo che per quanto riguarda le ERP il Comune ha già identificato le famiglie visto che aveva una gradatoria molto molto importante. La gradatoria invece degli affitti calmierati si chiude a metà settembre e appena ci sarà data la gradatoria definitiva metteremo dentro le 11 famiglie.